E' chiaro che abbiamo peccato un pochettino in personalità e soprattutto, come diceva prima, abbiamo peccato un pochettino in fisicità e di conseguenza queste sono le qualità che ha Coletti, però per altri aspetti meno male siamo andati lo stesso bene. E' chiaro che Coletti è un buon giocatore, ma non ho niente da ricominare su quelli che sono andati in campo. Nelle prossime 24 ore, per quanto mi riguarda, cosa ti aspetti da questa vicenda? Che soluzioni ti aspetti, perché comunque incitano? Guarda, io mi sono estraneato totalmente dal discorso, ho pensato a preparare bene questa partita. E' chiaro che spero che ci sia chiarezza, ci sia chiarezza non nell'uno o nell'altro caso, in modo che io posso lavorare tranquillamente per la partita di domenica. E' chiaro che è un discorso particolare, un discorso inaspettato, perché avevamo preparato tutta la squadra in un certo tipo di discorso, quindi io spero che vengano il martedì e sia chiarezza sulla vicenda. Grazie.